Buonasera, buonasera e bentrovati. Buonasera, buonasera. 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 Quali sono i legami tra un alpinista e un malato di cancro? Buonasera, buonasera. Credo che il legame fra un malato di cancro e un alpinista è il combattere, che deve essere un dovere. Per cui anche l'alpinista che scala una montagna, in questo caso gli 8000, deve veramente combattere per raggiungere il suo obiettivo. E un malato di cancro deve anche lui combattere per raggiungere il suo obiettivo, che è la scala di questa grande montagna che purtroppo porta verso la guarigione. Per cui riuscire a far capire a queste persone meno fortunate di noi di aver voglia veramente di lottare, di impegnarsi, di mai mollare, mai arrendersi. Questo è veramente importante farlo capire. Qual è la sua esperienza personale con il cancro? Io purtroppo ho perso tante persone, i miei nonni sono morti purtroppo di questo brutto male, tanti amici ho perso con questo male. E riuscire veramente a trasmettere loro la voglia veramente di lottare, perché comunque se una persona lotta si è visto che si riesce effettivamente a avere, anche il fisico risponde diversamente, proprio lottare per questo. Di conseguenza io sono anche un testimone di cancro primo aiuto, cerco di parlare agli amati, lavoro nel soccorso, per cui ho proprio il contatto con le persone che soffrono. E così la mia maniera di scalare e dimostrare loro veramente di mai mollare, di tenere duro, veramente di combattere, aver voglia di vivere. Quindi dà la forza. Aver voglia di vivere, aver voglia di combattere, che poi non è sempre così facile. Io purtroppo al K2 nel 2008 la morte mi ha sfiorata, mi è passata di fianco e quando racconto quello che ho visto su quella montagna è stato veramente drammatico. Da questa esperienza sono tornato, ho avuto un po' i miei problemi fisici, però adesso riesco a trasmettere questa voglia di lottare, di vivere anche ai giovani. E anche queste persone che veramente sono meno fortunate di noi. Lei ha avuto la forza di poi trasformarlo in positivo, insomma, so che a Padova dove venne ricoverato dopo la conquista del K2, dove le furono amputate le dita dei piedi, lei era in un reparto di malati oncologici, quindi è un'esperienza molto trovante. Sì, infatti ho sempre pensato, io qui sono quello che sì, avrò più dolore di tutti gli altri, però sono il più fortunato, perché io veramente avevo tanto male, tanto dolore fisico, però pensavo anche che in fondo in fondo io mi sarei rialzato piano piano e tutte le mattine giravo nelle varie stanze per riuscire a portargli un buongiorno, portargli un sorriso. È quello che sto cercando di fare adesso con la stagione di questo libro, che è veramente importante per far capire le persone. Ma è da lì nato il suo impegno, la sua voglia di impegnarsi? Sono sempre stato vicino comunque alle persone che soffrono, dai bambini, eccetera. Dopo l'esperienza di testimonia, di cancro primo aiuto, ho conosciuto veramente bene questa malattia e le persone che lottano, la mia voglia di fare, cerco di portarla verso di loro per fargli veramente capire che non bisogna ammolare, anche se, ripeto, non è facile, perché queste persone veramente sono allettate. Però sicuramente la voglia di attaccare può fare la differenza, come per un alpinista, uno che ha voglia di soffrire può fare la differenza per raggiungere una cima. Una persona che molla torna a casa. Questi amati devono tenere duro, devono lottare e anche i familiari, stargli vicino, anche loro lottare assieme. Quindi il fatto che comunque ci sia qualcuno che dà la forza, che incoraggia è fondamentale? Sì, sicuramente. Sicuramente tanto parte dal nostro computer, come lo chiamo io, dal nostro cervello. È importante che tutte le energie siano verso la parte positiva, perché se uno si lascia andare, io penso sempre al K2, se io mi fossi lasciato andare a quel bivacco oltre gli 8.800 metri, ero morto. Invece ho lottato per vivere tutta la notte e con le quote senza ossigeno è veramente difficile, però lottato, sono tornato a casa e è per questo che cerco di aiutare queste persone, per far capire di lottare. Giuseppe, dottor Pozzi, questo libro quali argomenti tratta? Tornando a questo volume che voi state presentando. Beh, innanzitutto il titolo Non arrendersi mai è più suo che nostro, nel senso che abbiamo dato questo titolo perché il suo motto è appunto non mollare mai, non arrendersi. All'interno del libro ci sono dei capitoli dedicati alle domande di cui abbiamo parlato prima, ma ci sono anche altri capitoli che servono per aiutare il malato ad affrontare la malattia. Abbiamo un capitolo, ad esempio, dedicato alla dieta da seguire. Perché? Perché molto spesso si pensa che sia importante seguire un certo origine alimentare per non ammalarsi di cancro, ed è verissimo. Però è altrettanto vero che la malattia va affrontata in maniera adeguata anche attraverso una dieta ben precisa, perché ti aiuta di fatto a affrontare meglio la malattia e quindi a guarire. Poi abbiamo un capitolo dedicato a una serie di argomenti che possono comunque aiutare l'ammalato, dall'ambiente in cui stare durante la malattia, all'aspetto fisico... Quindi proprio una serie di consigli che sono psicologici ma anche pratici, proprio a livello di quotidianità. Magari il malato si sente un po' solo a tutte le terapie e tutto quanto, però poi nel vivere quotidiano probabilmente. Esatto, infatti per dire si consiglia anche di occupare il tempo, perché se hai il tempo occupato a ripingere un quadro piuttosto che a guardarti un film, probabilmente non pensi alla malattia e questo comunque è di aiuto. E in più abbiamo proposto sette storie, sono tutte donne, sei che hanno attraversato il periodo della malattia e ne sono uscite vincenti, più una mamma che ha avuto un bambino ammalato di leucemia, ammalato di alcuni anni fa, e anche lui per fortuna sta bene, e quindi storie positivi che speriamo aiutino anche ad affrontare meglio la malattia. Certo. Marco, che messaggio si sente di lanciare alle tante tantissime persone che purtroppo sono ammalate di cancro? Il mai mollare, il mai mollare di tenere, come dico io, il gas aperto, veramente essere concentrati, essere positivi, anche se ripeto non è facile, però il mai mollare, quello che un alpinista fa. Quando ho subito l'amputazione, in ospedale mi hanno detto, lei è confortosa, non camminerà più, non correrà più. E gli ho detto al dottore, io correrò ancora, io corro ancora. Dopo quell'amputazione ho subito altri due 8 mila, con difficoltà, con problemi, dal dolore al freddo, eccetera, però ho dimostrato che tantissime volte volere è potere, per cui anche per loro non mollate, tenete duro, stringete i denti e combattete, perché veramente conta tantissimo la convinzione anche mentale. Io lo sto dimostrando un po' sulla mia così disavventura fisica, è importante, credici, è importante veramente essere convinti di riuscire e mai mollare, perché la testa veramente fa tantissimo e il nostro computer, come lo chiamo io, fa veramente tanto, per cui non mollate, tenete duro, stringete i denti e combattete. Dottor Pozzi, dopo questo bel messaggio, uno spazio, siamo proprio in chiusura, per un messaggio, una speranza anche da parte sua, insomma, anche grazie a questo libro. Sì, sì, infatti questo libro è un libro, ma c'è la possibilità, diciamo, la speranza per tanti, per avere un modo corretto di affrontare la malattia. Posso dire infine dove lo possono trovare? Nel senso che lo trovano gratuitamente, se uno vuole, gratuitamente lo trovate sul sito di Canco Primo Aiuto, che è www.cpaonlus.org, oppure si può trovare, per chi magari non ama leggere un libro attraverso il web, preferisce averlo in mano cartaceo, può o acquistarlo nelle edicole della Lombardia, insieme ai giornali del gruppo E-Netwick, oppure rivolgendosi alla nostra segreteria. Bene, grazie, grazie ai miei ospiti, arrivederci, grazie per averci seguito, buona serata.